Bella a tutti ragazzi e bentornandino qui con un nuovo fantastico appuntamento qui su The Journey Siamo per affrontare la nostra primissima partita contro l'Everton Previsione, Alex Hunter segna il gol che ci darà la collezione Non vorrei fare il... di me un bugiardo, vero? Quindi ragazzi, almeno abbiamo portato a casa un punto Ragazzi siamo sempre in coppa, siamo alla ricerca del nostro primissimo gol con la maglia del Newcastle E come abbiamo anche letto, c'era un tifoso che prevedeva appunto la qualificazione grazie al nostro gol Ok ragazzi, ci siamo dalla fascia Attenzione Prova ad accentrarmi per liberarmi al tiro Ah, porca miseria Oh, attenzione, bella palla in avanti Oh mio Dio Mamma mia ragazzi Bellissimo Peccato che era centrale, ma sarebbe stato un gol bellissimo Ah, fine primo tempo ragazzi Tutto sommato non ce la siamo comando poi così tanto male Perché non è successo molto A parte il nostro colpo di testa è stata l'unica occasione E se ci pensate L'Everton è una squadra di serie A inglese Mentre il Newcastle è una squadra di serie B Quindi siamo in una squadra molto più forte di noi Attenzione Possibilità di contropiede Attenzione Sì, vabbè E siamo stati sostituiti ragazzi Purtroppo siamo stati sostituiti Quindi la nostra partita finisce qui Peccato Mi spiace veramente E niente ragazzi Siamo usciti Dalla Coppa Sconfitti per 1-0 Mi spiace davvero tanto Troppo Troppo non abbiamo potuto fare niente Anche perché non ci ha dato proprio la possibilità Come avete visto insomma Di giocarci In quanto ci ha sostituiti subito Insomma ci vedeva Si vedeva che quel giorno ci schifava particolarmente Speriamo di riuscire a segnare almeno in campionato Attenzione ancora in area Si gira No No Cazzo Ero penetrato tantissimo in area Vicinissimi di nuovo al primo gol Arriverà laga Arriverà prima o poi Ecco che sono grande No No perché Perché falle era una grande opportunità Tenevo un buco enorme davanti a me Porca Eva Subiscono gol dal Cardiff ragazzi Ok siamo in zona cross Siamo in zona cross Non era male Non era male questo cross Attenzione perché la palla è ancora nostra La palla è ancora nooo Oh no 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 L'ha tirato lui L'ha tirato l'amicola Si ma porca Eva Passamela Cioè lascia Me la fai qualcosa Oh attenzione Sono sempre Sono sempre triplicato Quadruplicato Da questo che la butta A livello di ignoranza assoluta Ma che cazzo di rigore è Cioè inesistente malamente Non aveva fatto un cazzo quello Lo segno questo Quando me lo sento Me lo sento Eva può ragazzi Stiamo buscando 2 a 0 Due partite Una peggio di un altro Speriamo che abbiamo Iniziato Bene Magari concludiamo Cioè che abbiamo iniziato male Magari concludiamo bene Perché Questo inizio è davvero Scioccante Proprio di gameplay E finisce ragazzi Abbiamo perso 2 a 0 Continua questa striscia negativa Abbiamo preso 6,7 Partite discreta 1 a 2 fiammate Poi ci hanno stoppato tantissime volte Alla grande Ci hanno bloccato Zerazioni proprio Brutta partita ragazzi Brutto Brutto inizio di questo video Ok però abbiamo ottenuto Il punto che ci serviva E quindi possiamo migliorare Ragazzi miglioriamo i tiri Ho migliorato i tiri della distanza Come abbiamo deciso all'inizio Però Ma Speriamo bene ragazzi Ok ragazzi Pronti per la prossima partita Contro il Beamingham Ho fatto l'allenamento sui tiri E devo dire che ho avuto Almeno l'impressione Che L'abilità Del tiro della distanza Si senta Ho avuto l'impressione Che L'abilità Tiro della distanza Si senta Al momento del tiro Nel senso Si veda Che Si però stoppa Sto pallone Del cazzo Mamma mia Ok Buona Bellissima accelerazione Dalla fascia Peccato Tutto fatto bene Secondo me non era male Neanche il cross Solo che non c'era nessuno Sul secondo paro Attenzione Io ci provo Il tiro dalla distanza Deviata Si deviata Ah Ancora non so Ancora non so No cazzo Se stai in fuorigioco Non l'andare A prenderlo Sei un coglione Attenzione a questa opportunità Bello E' buona la perdere Libera il tiro Attenzione Segna C'è il gol C'è il gol Vabbè Sotto lo stesso Perché Dopo due sconfitte Cazzo Finalmente il gol Dobbiamo vincerla Questa assolutamente Anche stavolta Si Potremmo segnare Vabbè Però Almeno la cosa importante È andare Almeno a vincerla Questa Che cazzo Meno su Una nostra percussione finale Siamo riusciti a trovare Il giusto spocco Rivediamo Qua c'erano liberati Il tiro Non era male Forse un po' centrale Poi su una papera Loro L'attaccante La butta dentro Vabbè A me opi Va bene così Uh Sulla linea Arriva il cross In mezzo Che schifezza Però vabbè Almeno ci ha fatto salire Il voto L'unica cosa buona Buono Bel passaggio Il tiro Schifoso Schifo 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 Di tiro Però ci abbiamo provato Dai Finisce ragazzi Voto Voto 6,8 Quindi siamo andati abbastanza bene Noi abbiamo segnato E' fatto l'assist Abbiamo propiziato quel gol In maniera rocambolesca Però abbiamo vinto 1 a 0 Importante Certe volte E anche vincere E' bene così Dopo due sconfitte Ci voleva questa vittoria Veramente Come il pane Ci voleva Prossima partita Ragazzi Contro Lipswich Cazzo Di squadra Comunque siamo a dicembre 17 Ci facciamo una grattata Speriamo che porti bene Non male Ok Grazie per averci prestato Hunter Oggi partirà titolare Come giusto che sia Yes La squadra Watford Ha conquistato Altri 3 punti Stanno andando alla grande Resta con noi Siamo settimi In classifica Però facciamo veramente Pena Però Io personalmente Migliorerei anche Cioè continuerei a far migliorare Il giocatore E resterei anche Il mio castle Cercando di Ottenere la promozione Sarebbe Una Una bella avventura Anche se Vabbè Dobbiamo diventare Legenda Lo so Vincere Tipo La Champions Il pallone d'oro I campionati Ste cose qua Vabbè Sono d'accordo E tutto Però ci sa che A 19 anni Cioè se ottieni la promozione D'una squadra Non mica sei scarso Anzi Quanti ragazzi Attualmente Di 19 anni Per esempio Non giocano neanche Ma neanche come sostituti Nelle loro squadre Come anche Nel Milan Succede Parte Donnarum Che è un'eccezione Che è nato Già in scuola elementare Abbiamo appazzito Lare Ok ragazzi Proviamo a liberare Il nostro tiro Non era male Ragazzi Un'ottima azione Peccato per Sta ciapatta Centrale Discreta potenza Ma troppo centrale Attenzione Sono generoso Ah Peccato Tiro di sinistro Vaffanculo Però ragazzi Abbiamo fatto Abbiamo già provato a fare un assist Oh Assegnare Attenzione Perché non è finita Qua questo era fallo Vaffanculo Me lo potevi dare il fallo Mamma mia ragazzi Lo so Potevo provare ad andare a segnare Però Cioè L'avevo visto Era perfetto Passaggio filtrante L'ho fatto benissimo Siamo a 7,5 La rotazione Stiamo giocando da D oggi Oh Attenzione E dai cazzo Mano Mano Vai così Vai così Vai così Alex Vai così Alex Porca Mignotta Uh Che culo Fallissimo Ragazzi Finisce anche questa Zero a zero Mamma mia Quanti zero a zero Abbiamo accumulato Abbiamo giocato abbastanza bene Anzi Molto bene Molto bene 7,4 Se volete Si diceva che passa Cioè Abbiamo fatto tutto quanto Quello che ci chiede Per mister 7,4 Siamo stati migliori Anche in campo Però Infatti Vengo partita Eh Sono pensato che Sono stronzo Grazie a tutti Per il suo segno Avrebbe Potuto Vincerlo Chiunque Dei miei compagni Un altro passo Per diventare Un top player Siamo gli umili È più due punti Versi Siamo Avrei preferito I tre punti Siamo più forti Noi Ci manca sempre qualcosa We got it Thank you My pleasure My pleasure Errore Ottimo Un pareggio ci si sta Ma vincere sarebbe meglio E c'è il gol Dei miei compagni C'è il gol Dei miei compagni Prima occasione Della partita Per entrambe Le squadre Si può dire Ok ragazzi Il tiro Il tiro Madonna C'è il gol E' un'altra partita E' un'altra partita Di notte proprio Mamma mia Ma che gol Porca miseria Solo così potevamo segnare con un gol Incredibile Il nostro primissimo gol E' stato epico Questo è merito sicuramente delle abilità Che abbiamo sbloccato Come il tiro dalla distanza Mamma mia ragazzi Troviamo anche il pareggio quindi Speriamo di riuscire ad andare a vincere Attenzione ragazzi Anche questa è una bellissima azione Bello Attenzione No No però buona percussione ragazzi Oh attenzione Assist goal Madonna 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 Che cessi Che gioco Che cessi ambulanti Che gioco Mamma mia Cioè la doveva solo buttare dentro Quell'altro Vado Tira a volo Non arrenderti Non era male Non era male Certo sarebbe stato un gol pazzesco Molto più del primo anche Però ci sta Voi affinare Ok conquistiamo anche il fallo e siamo saliti a 8 A 8 Non so se mi spiego Speravo me la facesse battere a me Goal Goal C'è il gol 8,1 E saluta la votazione Va bene Abbiamo fatto un cazzo però Abbiamo guadagnato la punizione Che ci ha fatto segnare il secondo gol Eh Non è proprio cosa da poco Sto bastardo non ce l'ha avuto a passare Sto cessi Goal ragazzi Bellissima partita 2,1 Abbiamo risultato Ribaltato un intero risultato Mamma mia E ancora fantastiche giocate Mamma mia come stiamo giocando Siamo a 8,3 votazione Mamma mia Oh bello bello Tutto molto bello Pronti per il cross Salvacio Era fatto bene Forse un po' debole Però Bella azione Sarebbe stato fantastico Riuscire a fare anche L'assist Dopo il gol Nella stessa partita Certo Non posso pretendere troppo Non avevo mai segnato Fino a mo' Chissà in quante 300.000 partite Oh Che scambi Mamma mia Andiamo il via Un'altra Ripartenza Mamma mia C'è l'assist C'è l'assist Puttala dentro Madonna mia Madonna mia Ragazzi L'assist Non lo farò mai 8,7 Sono arrivato di voto 8,7 Ragazzi Best partita ever Primo gol Segnato Mamma mia Che posso dire Fantastica Fantastica La nostra migliore Partita Miglior prestazione Il nostro primo gol Vittoria In rimonta Spettacolare Mamma mia Alex 17 anni Sono davvero Euforico Giornal più Il mister ha scelta La scelta Dattica giusta Dobbiamo Algarci E rimanere Concentrani Il nostro Scelta Dattica giusta c'è un pensiero su questo Alex? chiedermi se i ragazzi hanno rispettato il piano di gioco è tutto un vedo del mister c'ho un po' di lecchinaggio credo che abbiamo fatto molto difficile per l'opposizione quindi sì, credo a lui e questo può fare, credo grazie Alex comunque bella, bella ragazzi, bella queste sono le partite che mi piace fare se vuoi essere richiamato sto trovando il mio ritmo non sono solo in campo sembra che ho iniziato a trovare il mio gruppo beh, potrebbe continuare e chi sa, se stai giocando così potresti tornare in la Premier League potrei anche giocare con te e chi lo sa, fino a ora giochiamo sempre con Williams ok ragazzi, l'allenatore ormai è la nostra pienissima fiducia ci arriviamo anche al livello 69 e in più abbiamo ottenuto due punti a tributo che andiamo subito a sfruttare in controllo palla che ci serviva tantissimo e abbiamo ancora un punto oggi c'è effetto a passaggi e palle filtranti quando serve o cross sezione avversare tutta precisione nei cross questa ci può servire molto ragazzi andiamo a fare la nostra ultimissima partita contro il Bristol doll e conquistiamo un angolo ci sta ragazzi ci sta uuuuh prova la rovesciata certo se ci riusciva era epico attenzione al cross e va a guadagnare un angolo meglio di niente ragazzi meglio di niente ma porca misera mi lascia assedirà una volta attenzione ad Alex la percussione Alex porta in avanti aaaah ottimo cross bloccato siamo saliti a 7 e stiamo rispettando tra l'altro tutte le richieste dell'allenatore rigore c'è rigore c'è rigore c'è rigore speriamo che ce lo fa battere se ce lo fa battere nooooh mi sembrava strano ok gol va bene così Williams ha segnato bastardo dobbiamo segnare noi il rigore Williams vaffanciullo sei un disonesto fisce il primo tempo siamo in vantaggio va bene così è importantissimo fare anche qui tre punti oh buona ripartenza abbiamo servito un'ottima palla filtrante aaaah peccato 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 bello oh anche questa era rigore oh bella attenzione è bella palla la forza è un po' corta però ci sta ancora buona mamma mia penetra molto bene che è successo ottimo conquistiamo un'ottima punizione attenzione ad Alexander ha battuto wow questo è rigorissimo ragazzi no dai la ribatteva in porta quella palla cazzo la ribatteva in porta c'è però che cazzo mamma mia ma che cazzo sta a dire cioè rigore ma che cazzo cioè vola la palla in aria col calcio d'angolo rigore c'è un affanculo finisce ragazzi andiamo a fare anche qui altri tre punti importantissimi nella nostra classifica siamo sesti 34 punti quindi tutto sommato non vada così male perché con due vittori saremmo primi in classifica certo deve anche perdere quelle che ci stanno davanti quindi in realtà ne dovremmo vincere di più però 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 la classifica inizia un poco a sorriderci le prestazioni non sono state affatto male le ultime magari porterò un altro episodio di fila di The Journey la videocamera in questo momento ha finito la memoria peccato è arrivato quasi alla fine comunque ragazzi io vi saluto ci vediamo domani per un nuovo fantastico appuntamento mi raccomando lasciate un bel like iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto facebook twitter instagram in descrizione io vi saluto ragazzi bella a tutti bella a tutti